Musica Prosegue lo sciopero della fame di Gino Domenico Spolitu che vuol così attirare l'attenzione dei media e della politica sulla mancata riapertura dell'ospedale di Praia Mare Gino Domenico Spolitu è da molti giorni in astensione totale dal cibo e da qualunque medicina e cura Penso sia arrivato il momento anche per le singole persone per dare anche un esempio a tutti quanti gli altri per un risveglio dell'opinione pubblica e della zona soprattutto ma di tutta la Calabria perché questo ospedale non muoia progressivamente come ciò sta accadendo è un ospedale che in zona manca in tutta la zona era un ospedale che non dico che era il fiore all'occhiello ma funzionava adesso piano piano sta morendo per decisioni politiche ovviamente però c'è anche una sentenza del Consiglio di Stato che dice da un anno e quattro mesi che dice che deve riaprire e siccome le sentenze mi hanno insegnato bisogno a saperle rispettare il primo che deve rispettare le sentenze della magistratura è proprio lo Stato, il governo, le istituzioni perché se no che esempio possiamo dare ai giovani, che non possiamo dare nessun esempio allora io mi appello ovviamente alle autorità politiche della zona ho fatto oggi una lettera aperta a Iole Santelli e Ernesto Magorno proprio perché vengano qui, si mettono a un tavolo io non dico che devono scioperare insieme a me per carità, ognuno fa le decisioni che vuole ed è meglio che soffra uno piuttosto che 100 però ecco, almeno una vicinanza, almeno farsi vedere penso che sia, ad esempio, non a me io sono un povero Cristo che può passare il tempo ma a tutti questi giovani che sono sbandati a tutti questi giovani che non sanno avere fiducia nelle istituzioni perché le istituzioni sono lontane perché non può essere un ospedale civile declassato solo perché non guadagna soldi l'ospedale, a me hanno insegnato da ragazzo, quando ero studente dopo, eccetera, che la sanità non è una concessione è un diritto la salute pubblica è un diritto il cittadino ha diritto di stare bene non è una concessione adesso tutto è una questione di soldi tutto è una questione di favori anche i ricoveri sono questioni di raccomandazione io dico sempre una frase in questi giorni a chi mi dice chi te lo fa fare chi me lo fa fare pensate, pensate un attimino quando sentite al telegiornale ogni tanto si sente bambina morta nell'ambulanza per 5 minuti di ritardo perché c'era traffico perché l'ospedale era chiuso o qualunque altra cosa pensate che quel momento può capitare a ognuno di noi ai vostri figli, ai vostri genitori, a voi può capitare e pensate se come tra l'altro è capitato per 5 minuti di ambulanza che non riesce ad arrivare all'ospedale quello più vicino qui c'è raro Paola che magari d'estate che c'è tanto traffico sulla stradale muore allora ci sentiamo tutti toccati allora facciamo tutti quanti l'espressione di rabbia ce la prendiamo con i politici ce la prendiamo con tutti pensate Spolito perché in questo momento non un anno fa? perché da un anno e quattro mesi ripeto c'è una sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto illegittima la delibera della regione Calabria e ha nominato anzi ha chiesto al governo di nominare un commissario ad acta che venisse qui e vedesse come in che modo in quali termini riaprire questo ospedale però questi commissari stranamente in un anno e mezzo vengono sì nominati e finora in un anno e quattro mesi sono stati nominati tre però stranamente fanno una visita fanno due giorni due mesi tre mesi e si dimettono senza apparenze emotive apprendi emotive poi lascio immaginare a chi di dovere per quali motivi si dimettono però c'era io mi sono messo per quattro anni a disposizione a avere fiducia nella giustizia